Buongiorno, ben trovati, siamo qui tutte le mattine alle 7 per Occhio ai Giornali, vi facciamo vedere le notizie principali sul resto del Calino e Corriere Adriatico, un saluto anche a tutti coloro che ci seguono non solo in questo momento davanti al teleschermo ma davanti ai loro device, smartphone, tablet, computer, anche la possibilità attraverso la nostra pagina Facebook di seguirci fuori da casa, ma noi guardiamo sempre come facciamo tutte le mattine anche il calendario, quindi il santo del giorno, l'almanacco e anche le previsioni del tempo. Allora partiamo con la grafica che riguarda il santo del giorno, che cosa ci dice il calendario, oggi per sabato 9 novembre la Chiesa ricorda la dedicazione basilica lateranense e il sole è sorto alle 6 e 54 e tramonterà alle 16 e 50. Andiamo a vedere le previsioni del tempo che sono all'insegna della variabilità, almeno sulla carta, poco parzialmente nuvoloso in mattinata il cielo, però intensificazione delle coperture nelle ore centrali, le precipitazioni ci saranno a carattere anche di breve piovasco, però più che altro il fenomeno ci sarà sui rilievi sulla parte meridionale della regione. Compare, e lo vediamo per la prima volta in questa stagione, il limite delle nevicate che si attesta attorno ai 1.800 e 1.900 metri, quindi siamo ancora in alto, però comunque può darsi che compaiano i primi fiocchi di neve. Le temperature ovviamente sono in diminuzione. Nella giornata di domani, domenica, anche qui variabilità come indice generale, il cielo irregolarmente nuvoloso, locali addensamenti anche più intensi. Le precipitazioni avranno possibilità di presentarsi in forma lieve e breve, anche a carattere di rovescio e la possibilità c'è anche lungo la fascia costiera, però nelle prime ore della giornata, quindi diciamo nella nottata, le temperature non subiranno variazioni di rilievo. Lunedì il cielo almeno sul fronte nuvoloso peggiora un po', soprattutto sui rilievi, come vedete il cielo è intensamente nuvoloso, è anche molto nuvoloso. Le precipitazioni non si escludono, non sono date per certe, brevi e isolate, a ridosso però dei rilievi. La tendenza per la settimana sarà però per un peggiore, peggioramento sul fronte delle marche a partire da martedì. Questo è in prospettiva, il fine settimana è anche quello che accadrà nella prima parte della settimana prossima dal punto di vista meteorologico, ma vediamo, entriamo, vi porto subito all'interno dei giornali. Partiamo dalla pagina del resto del Carlino che riguarda Ancona, il capoluogo di regione, la fotonotizia è tutta per lui, il nostro crooner, è morto purtroppo Fred Bongusto, le sue canzoni famose in tutto il mondo, la più famosa delle quali appunto è Una rotonda sul mare, la canzone più famosa ispirata a Senigallia. Ma si parla anche della bufera giudiziaria che ha investito l'amministrazione comunale, 5 arresti, un geometra alquanto spregiudicato, dice il resto del Carlino, la procura scava anche nelle consulenze, appalti blef in comune, è partita l'inchiesta e il sindaco che era in previsione di andare fuori dalla città rimane nella città d'Orica proprio per fronteggiare questa situazione molto critica all'interno delle pagine. Poi troverete tutti i dettagli, sono tre le pagine dedicate a questa inchiesta bufera appunto come definita nel titolo. Invece nella pagina di Macerata, Rissa e Ubriachi, c'è la cronaca, anche raffiche di multe, la polizia locale impegnata in tanti interventi, soprattutto nel centro storico, 56 persone sono state controllate, identificate e anche a molti locali del centro. Ma la fotonotizia è per questa iniziativa, la lirica va in crociera, dallo sferisterio direttamente sulle navi di una nota dita di crociere, di una compagnia di navigazione, i cantanti lirici faranno delle performance, verrà presentato il programma del Macerata Opera Festival, insomma un bel connubio tra turismo e arte. Nelle pagine invece del resto del Calino di Pesaro, l'apertura è per la politica che sbatte contro il muro. Il muro è quello di Berlino, c'è un documento che è stato messo in nero su bianco, ma salta però questo documento bipartisan, sull'anniversario le opinioni rimangono divise, il centro-destra attacca, dicono manca ogni riferimento al comunismo e quindi noi non firmiamo questo documento. Ma la fotonotizia è per questa azienda pesarese, una software house che studia le partite e una start-up tra le prime dieci al mondo. Tutto un altro calcio, statistiche, insomma un software molto sofisticato che ha messo a punto questa azienda pesarese. Poi si ritorna a parlare della lanterna azzurra, lo sfogo del papà di Mattia, chi pagherà per tutto questo? E quindi c'è il suo sfogo nelle pagine del resto del Calino. Corriere Adriatico, la cronaca in apertura, ragazzini rubano modelli high-tech, e invece la mamma li fa restituire la refurtiva, la direzione dell'ipermercato li ha perdonati, non scatterà nessuna denuncia. Ma si incomincia a parlare di manifestazioni legate al Natale, una delle più gettonate è appunto candele a Candelara, è per operazione sicurezza, nel borgo si cambia per non concentrare i visitatori solo nell'ex foro Boario. Vedete qui la foto è alquanto eloquente su che cosa avveniva appunto fino ad oggi a Candelara per l'accensione appunto delle candele e per visitare le casette dei mercatini. Sabato 23 più inaugurazioni di Kermesse legate al Natale, quindi sabato 23 sarà un po' il D-Day delle manifestazioni legate al Carnevale. E quindi le candele e i mercatini scatta l'operazione sicurezza, nel weekend appunto ci saranno le inaugurazioni del 23, le più importanti manifestazioni natalizie, l'impegno è tutto di proloque e comitati e a Candelara si cambia. Ma presto, penso la settimana prossima, ci sarà proprio una conferenza stampa delle proloque e della provincia, come sempre, per presentare tutto il programma di questa tornata natalizia. Ragazzini rubano articoli ai tech, vedete alcuni modelli di ciò che hanno portato via, si tratta di cuffiette e altri dispositivi, però la mamma, oltre a tirargli le orecchie, gli fa restituire la refurtiva a preso del furto. La donna si è ovviamente sentita male per questo brutto momento e la direzione dell'ipermercato ha pensato di perdonarli e niente denuncia, visto come si è risolta la cosa. E poi si ritorna a parlare della PICA e dei suoi lavoratori, sapete che in tutto quello che hanno passato, hanno fatto picchetti, sit-in, insomma, si sono mossi e adesso si rimettono in gioco, gli ex lavoratori, la formazione per trovare un nuovo posto di lavoro. Il primo incontro del percorso nella sede del centro per l'impiego, elevata l'età media, 55 anni, è un'età in cui sei un po' a metà del guardo, non sei né cane né pesce, né troppo giovane per ricollocarti e neanche troppo anziano per andare in pensione, insomma, un'età che da quel punto di vista ha molte zone grigie. Caduta rovinosa sulla pista ciclabile, siamo a Vallefoglia, c'è naturalmente questa foto abbastanza eloquente di quelle che sono state le conseguenze, si moltiplicano gli infortuni tra Montecchio e Padiglione, il comune nella manutenzione, scusate, è coinvolta la provincia, quindi sulla pista ciclabile bisogna stare attenti alle buche coperte con la ghiaia, perché, insomma, se mettete, se cascate, questa potrebbe essere la conseguenza. Ancora, anche nelle pagine del resto del Carlino, si parla del no bipartisan, diciamo no a tutti i muri, ma è scontro, all'anniversario di Berlino, per questo anniversario la politica si spacca, si divide, il centro-sinistra non cita il comunismo e il centro-destra, quindi non vota l'ordine del giorno su questo ricordo dell'anniversario. Anche qui il calcio diventa matematico, la start-up vola in Cina, questo è l'articolo che riguarda la fotonotizia, la Key Sport ha prodotto un software che calcola ogni dettaglio di una partita, l'azienda premiata appunto tra le prime dieci al mondo, il sistema viene adoperato anche in tutta la Serie A, in Europa e monitora anche il piede d'oro di Messi e quindi per le statistiche è una mana dal cielo per chi fa il lavoro del cronista o del giornalista sportivo. Tragedia in Villa, c'è cronaca nelle pagine del resto del Carlino, è successo in strada della necropoli a Novilara, ha trovato grosso disordine nella stanza, sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso e poi studenti anche qui rubano all'Iper, ma la mamma fa restituire tutto e poi andiamo nelle pagine che riguardano Fano, Diaspora Nolfi, intanto c'è la palestra, prima riunione anche con il comitato dei genitori, il liceo è patrimonio dell'intera città, no al restyling dell'ex Carducci, i primi di dicembre sarebbe riaperta la struttura di Via Tommassoni, le aule e Palazzo Petrucci, pronte all'inizio dell'anno. Lo avete sentito anche ieri in diretta telefonica con il sindaco Seri, Seri, tre tipologie di interventi, immediato, a medio e a lungo termine e soprattutto che al di là di quello che si pensava, alcune voci di Corridoio dicevano che praticamente qualcuno pensava anche di voler far ricostruire il Nolfi da un'altra parte, fare un altro polo scolastico in un altro luogo della città, ieri il sindaco ha ribadito che il Nolfi verrà ricostruito nello stesso punto in cui verrà abbattuto l'edificio che non ha l'agibilità. E quindi questa è una notizia che ha tranquillizzato sicuramente molte persone, vedremo, saremo attenti anche su questo. Di gestore, l'altra vicenda sul piatto, di gestore sì, di gestore no, dove farlo, dove non farlo, fioccano gli incontri pubblici, si rischiano le tasse più alte, è partecipata in iniziativa dello Stato Maggiore della Lega a bell'occhi, residenti ancora più inquieti, e dice Doglioni, impianto entro il 2022 o si perde incentivo, quindi lo si fa per la data, operativo, funzionante e tutto, quindi con tempi abbastanza corti, o si perde l'incentivo per la sua costruzione. Vogliamo dentro, perché Carloni dice, vogliono dentro marche multi servizi, ma ieri sono state più di una, c'è stato anche un incontro pubblico organizzato da Aset e da Incomune con l'assessore Mascarin, quindi insomma, diverse sono gli incontri su questo tema. Sant'Arcangelo, i costi lievitano, l'architetto Star Rota ha spedito il progetto di 5 installazioni artistiche complementari alla rigenerazione dell'edificio, L'operazione costa 646 mila euro, compresi nei 6 milioni di investimenti del primo lotto. Le spese previste però in questo modo sono raddoppiate, questo è il progetto ITI fatto assieme alla città di Pesaro. Ex Carducci, nelle pagine del resto del Carlino, cita l'incontro, perché ce ne sono stati due nella giornata di ieri, quello locale con il sindaco di Fano e l'assessore e il comitato dei genitori, ma anche quello in provincia e vedete qui nella foto al centro Paolini, il presidente della provincia, con i parlamentari eletti sul territorio di ogni versante politico, li vedete qui, proprio per cercare di trovare una soluzione a breve termine, sia per appunto il Norfi e per l'ex Carducci. Gli incontri pubblici che vi dicevo, due da parti, diciamo, da parti diverse, quelli del sì e quelli del no, questa è quella fatta, organizzata dalla Lega, come vedete, partecipatissima a Bellocchi, ma partecipatissima anche questa in centro organizzata da Aset e da In Comune. Il duello tra i partiti, il partito del sì e il partito del no, affollati entrambi gli incontri. L'Anterna Azzurra si ritorna a parlare per voce di Giuseppe Orlandi, il padre di Mattia, che scrive una lettera, dice, chi pagherà per aver fatto riaprire un locale chiuso senza controllare la sicurezza, perché gli amministratori, dice nella lettera, non hanno svolto il loro ruolo di controllo e quindi a un anno della tragedia, visto che la nostra vita è stata praticamente frantumata da questa tragedia, vorremmo sapere se qualcuno ci darà mai una risposta dopo aver capito che nostro figlio è morto in un deposito agricolo. Nel suo scritto, il papà del 15 anni ripercorre la vicenda autorizzativa del locale che era chiuso, era stato chiuso fino a ottobre del 2017, quindi insomma, lui fa un po' l'escursus delle autorizzazioni, della commissione di pubblico spettacolo, insomma, c'è tanto da dire su questo argomento. Nuove telecamere, siamo sulla Val Metauro, a Fossombrone, il comune ha definito l'acquisto di sei nuove videocamere, saranno ad alta definizione per controllare i punti strategici della città. Dalla Valcesano la tribuna non è ancora aperta, si parla di impianti sportivi, a Mondolfo il PD solleva la questione dell'uscita e del deflusso degli spettatori. Naturalmente la tribuna non essendo ancora aperta, è un dibattito aperto sul fronte della sicurezza, pronto per il taglio del nastro, il nuovo impianto sportivo con il campo in erba sintetica, in via fermi, un impianto riqualificato e atteso da tempo, però bisogna focalizzare ancora alcune cose prima di tagliare il nastro tricolore. a Urbino andiamo a Urbino, il giovedì delle follie nulla è cambiato per noi, i residenti di via Battisti vogliono un incontro con il sindaco di Urbino Gambini perché sapete c'era stata una ordinanza comunale su questi giovedì molto vivaci nel centro storico con tanti studenti, tanti ragazzi che alle volte eccedevano anche un po' nell'essere così festaioli con grande disappunto naturalmente dei residenti di via Battisti c'era un'ordinanza restrittiva con gli orari insomma però alla fine dei conti alla fine della fiera dicono i residenti per noi non è cambiato nulla perché siamo ancora sotto scacco di queste di questo modo di fare di fare divertimento scuola in provincia si parla appunto di tutto quello che è stato che ha portato alla chiusura delle due strutture firmato il contratto preliminare d'acquisto per l'istituto maestre Pieve Nerini per 700 mila euro però qui siamo al Raffaello di Urbino e subito lavoro per portarci 18 aule anche task force del MIUR per accelerare gli interventi delle IIS e quindi questo è quello che avviene a Urbino e speriamo che presto avvenga qualcosa di simile anche a Fano da Senigallia l'ultima pagina che vi faccio vedere corsa contro il tempo per le luminarie anche qui si parla di addobbi natalizie l'appello dei commercianti al comune serve una lettera di intenti per avviare la raccolta di fondi e accendere le vie del centro così qui siamo un po' a rilento stranamente però i commercianti scendono in campo e fanno un po' di pressing al comune perché abbellisca e faccia tutto quanto il possibile per accelerare i tempi e rendere la piazza di Senigallia una piazza appetibile per lo shopping e per il passatempo natalizio allora vi faccio rivedere le prime pagine come sempre ripercorriamo le aperture in fine di rassegna stampa a vantaggio di quanti non le hanno viste all'inizio questa è quella di Ancona con l'omaggio a Fred Bongusto che è la sua canzone più famosa in assoluto ispirata alla rotonda sul mare corruzione però terremoto in comune nell'amministrazione comunale si allarga l'inchiesta geometra arrestato e altri imprenditori nei guai per micro appalti assegnati insomma in un modo alquanto che l'indagine dovrà stabilire rise e ubriachi siamo nella pagina di macerata raffica di multe stretta sulla movida e anche sui locali 56 persone identificate da parte della polizia locale e quindi stretta sugli eccessi notturni e poi la fotonotizia per la lirica che va in crociera accordo tra una nota azienda un armatore che ha una compagnia molto famosa e il macerata opera festival che porta i cantanti sulle loro navi per quanto riguarda invece la pagina di peso del resto del carlino la politica sbatte sul muro di berlino si divide non viene firmato l'ordine del giorno sull'anniversario dell'abbattimento del muro dice il centrodestra il insomma nel documento il pd omette di parlare di comunismo e poi invece la fotonotizia per questa start up questa software house pesarese che ha messo a punto questa app che permette di avere statistiche matematiche sul calcio ma di spalla c'è lo straziante appello del papà di Mattia una delle vittime della lanterna azzurra che dice chi pagherà per tutto questo cambiamo pagina cambiamo testata andiamo nel corriere adriatico l'apertura è per la cronaca ragazzini rubano modelli high tech e dispositivi tecnologici all'iper rossini la mamma li fa restituire e la direzione dell'ipermercato li perdona ma l'apertura è per candelia candelara si cambia perché scatta l'operazione sicurezza mai più resse così come vedete nella fotografia si cerca di decongestionare il punto del foro boario ma sabato 23 ci saranno tante inaugurazioni in tutta la provincia per il via ai mercatini e alle iniziative legate al Natale questo è quanto per la rassegna stampa l'ultima rassegna stampa della settimana oggi è sabato questa sera il telegiornale non ci sarà ma ci sarà il nostro magazine 7 per occhio che ripercorre un po' tutte le notizie principali della della settimana lunedì ritorniamo con la rassegna stampa alle 7 poi occhio alla notizia alle 20 e 30 e vi ricordo anche che ci sarà lunedì primo cittadino proprio con il sindaco di Fano Massimo Seri questo è il numero comunque sempre attivo H24 come si dice per le vostre segnalazioni o per così poter entrare in contatto con la nostra redazione grazie per essere stati con noi in questa prima parte della giornata e quindi buon fine settimana a tutti voi arrivederci grazie a tutti grazie a tutti